16 anni e 8 mesi per l'omicidio dell'amico ecoetaneo Mirko Congera e il tentato omicidio della sua convivente Daniela Gioitta. Confermata in appello la sentenza pronunciata lo scorso dicembre dal giudice delle odienze preliminari del Tribunale di Prato a carico di Cristian Ottavi, il 45enne che la notte del 29 settembre 2020 si presentò a casa della coppia in via Firenze alla Querce e sferrando diverse coltellate uccise l'amico e ferì gravemente la compagna che cercò di fermarlo. I giudici di secondo grado hanno recepito in pieno la decisione del Tribunale di Prato davanti al quale l'imputato fu processato con il rito abbreviato. Cristian Ottavi sta scontando la pena nel carcere della Dogaia dove si trova rinchiuso dalle ore immediatamente successive all'omicidio. A lui i carabinieri arrivarono immediatamente. A fare il suo nome fu Daniela Gioitta che pur ferita in modo grave e terrorizzata riuscì a conservare la lucidità necessaria a puntare il dito contro l'assassino del suo convivente. Un omicidio brutale, una violenza cieca scatenata dal rancore nutrito dall'imputato verso la vittima che come ricostruito dai carabinieri non lo aveva difeso durante un litigio con un gruppo di marocchini uno dei quali picchiandolo gli aveva fatto saltare quattro denti. Diversa la tesi degli avvocati che hanno insistito, come già fatto in primo grado, sulla ricostruzione secondo cui Ottavi quella sera dopo la lite si fermò a casa della coppia, notò della droga, minacciò di denunciare quella circostanza e fu costretto a respingere un'aggressione.